Siamo a Firenze e qui il sindaco Nardella ha diramato un'ordinanza. Negli esercizi pubblici, in caso di aria condizionata accesa, le porte devono restare chiuse. La condizionata io l'ho spenta, quindi me le ho metto da sola alla regola, non c'ho bisogno del sindaco. Qui non abbiamo soluzioni, ci aiutano, se no io infatti ho già deciso il 30 di ottobre di chiudere, perché se continuano ad arrivare queste bollette, che cosa dobbiamo fare? Queste le bollette del Gran Caffè San Marco, il confronto luglio 2021-luglio 2022, totale luglio 2021 4.890,13, luglio 2022 22.105,96. Le bollette, vabbè queste ormai sono innominabili, questa è una speculazione bella e buona. Abbiamo staccato anche l'aria condizionata e ci scusiamo con i clienti, ma però cerchiamo di risparmiare su tutto. Siamo già in epoca di razionamenti? Di fatto lo siamo, tutti stiamo spegnendo l'aria condizionata, stiamo riorganizzando gli orari di lavoro, fermandoci nelle ore più calde, pur consumando di meno ci sono gli aumenti. Grazie. 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 Grazie a tutti.